Ciao, sono Magio. Il gioco che andremo a vedere oggi insieme si intitola Torn Away. È un'avventura grafica, molto triste, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in Russia. Noi siamo Asia, una piccola bambina che si trova a Stalingrado quando la guerra inizia a bussare prepotentemente in Russia. In questo video vedremo quello che la Software House ha previsto come un'introduzione al gioco, che invece è essere una cutscene e un tutorial. Perché quando finirà la parte tutorial, inizierà davvero il gioco. E non voglio spelerarvi molto. Andiamo a vedere. Bel messaggio aiutatevi a vicenda. Consigliano di giocarlo con il voice-over originale, quindi non in inglese. E noi chi siamo per andare contro i consigli? Se no, se volete c'è anche l'inglese ovviamente. C'è anche l'inglese ovviamente. Diventa opprimenza subito questo taglio registrico che cambia lato del tavolo e sparisce il padre perché è in guerra. 23 agosto 1942, Stalingrado. C'era il peggior posto di Stalingrado per iniziare un'avventura nella seconda guerra mondiale? Probabilmente no. Probabilmente no. C'era il peggior posto di Stalingrado. C'era il peggior posto di Stalingrado. Arcadia è la mascotte, il suo pupazzo notturno, immagino. Ah, è proprio legato alla scopa, quindi è il suo cavallo per andare a giro. Allora, tutto ciò cuto. C'era il peggior posto di Stalingrado. Bastardo, madame. guerra, la seconda guerra mondiale in Russia ha da regalare probabilmente due sassi poveretta guarda mamma ho preso questi due sassi bellissimi uno è a forma di sasso e l'altro pure povera piccola eh, io ne помню no da, zagliar ah, è quello che tu provi e in tutte le domande non è tuo quindi abbiamo strappato tutta la lista WSD inizia e moonwalk in stile Michael Jackson però chi se ne frega è un gioco dove non è il gameplay la parte fondamentale ma la storia ovviamente ok 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 no c'è eh, sono finiti questi sono 0 di 4 pastelli e 0 di 4 foglie che non vedete nascosti dalla mia faccia o almeno c'è il simbolo delle matite ho scritto 0 4 prossimo obiettivo con cui torniamo indietro andiamo a cuacciarci ecco i pezzi prendiamo la palla andiamo togliere si sarebbe bello ma ora ci servono i pezzi esatto nessuno ha l'aria aperta perchè prendi i proiettili in testa se no 1 di 4 2 di 4 ah te sei maniata cioccolata è simpatica madame da quando non usa più l'autotune ragazzi veramente infastidita sono tutti uguali si c'è niente ok pazzo per saltare ok oh non me la dire così mi viene tristezza che tristezza tornerà mai è in guerra perchè dovrebbe tornare è chiaro che schiatta allora non è un pastello ma sono quelli che dovevamo cercare abbiamo 1 di 4 adesso di questi ok c'è nient'altro qua ok dobbiamo andare alla forza ah hai ragione quindi h suggerimento uh ciò che è cliccabile la pianta anche mamma sei veramente fastidio terri ma abbiamo 3 di 4 pezzi l'ultimo sarà su questa è l'unica cosa giusta che ha detto madame lì ma ce l'avrà giù arcadio allora e dov'è allora l'ultimo pezzo ce l'ha madame non mi fa di parlare con te mamma mia antipatia e dov'è l'ultimo pezzo allora ah ecco la roba eh sì ora mi è tutto molto più chiaro quello che c'è scritto è mamma qualcosa tanti auguri mamma ama papà ascoltare la musica i miei disegni me perché me no ok mamma mi è fastidiosa dici appunto messi e lei no ciò parte un po' lento perché per ora chiaramente è tutto un tutorial di come ci si muove non abbiamo non abbiamo quel trascinamento sentimentale dato dalla brutta situazione che viviamo nuove note caro diario ti ho ricevuto in regalo dalla mamma parecchio tempo fa quando ero in prima eppure non avevo nulla da scrivere poi è scoppiata la guerra papà è partito per il fronte ho iniziato a pensare a tante cose sempre più spesso spero di prendere la buona abitudine da notarti tutto forse almeno questo farà felice la mamma ok oggi la mamma è veramente di cattivo umore volevo presentarli ai miei amici madame Arcadi ma mi ha detto di smettere di inventarmi le cose di leggere piuttosto i libri assegnati per le vacanze estive a dirla tutta è stata lei ad assegnarmeli non è facile essere la figlia di una maestra chi se ne frega dei libri quando là fuori c'è un mondo da scoprire ultimamente sto disegnando un sacco non so se sono bravo ma come dice papà l'importante è che piaccia a me papà se solo sapessi quanto mi manchi e da un po' che non scrivo avevo voglia l'estate procede tutto piuttosto lentamente qui intorno nessuno sembra voler parlare con me quindi il più delle volte esco per delle passeggiate in solitaria per andare sull'altalena ma almeno il tempo è bello passo la maggior parte del tempo con i miei giocattoli povera il tempo è bello ci sarà meno 30 probabilmente ma insomma ma che monta questi cioccolatini mi ricordo ancora basta non c'è più pagine quindi tab torniamo indietro porca miseria ripariamo la muffola moffola dobbiamo andare a cercare fondamentalmente il kit da cucito hey non possiamo saltare sopra ma devi trovare un disco ok vediamo se li tiene nell'armadio il movimento è un po' lentino ok ok chiaro ovviamente non mi lasciano fare niente in questo gioco all'inizio come caro che sia se premo anche i tasti sbagliati peggio che mai non mi lasciano fare niente in questo gioco all'inizio permetti di non perderla più non so con la stella con Stalin è tutta casicana assieme ossa uomo un belio noi la prendiamo perché no sempre sopra simpatica e madame se avrà da dire No, ma che stronza Come stronza Allora, combinazione di tasti Non è che sia così delle più felici Mettiamola così Asia, cara figlia mia e mia amata moglie Katia Buongiorno La vostra ultima lettera mi ha rallegrato molto Penso di averla letta almeno 200 volte E mi sono piaciuti soprattutto i disegni di Asia Sono meravigliosi Devi aver preso dalla mamma Scrivetemi ancora, per favore Mi mancate così tanto, amori miei Mi mancano le parole, ma non siate tristi Tornerò così presto che vi scorderete perfino che sia partito Cos'altro dire? Qui non ci sono molte notizie, sto bene e tengo duro Per favore, non prendeteve la promessa Se scrivo meno è solo perché qui non si trova la carta Ecco come siamo presi Come siamo presi Non so cosa intendo, come siamo messi forse Vabbè è la stessa cosa Salutatemi tutti e a presto per ora Un abbraccio forte forte e tanti baci Il vostro Petia Da, davvero è stato fatto Ho spero che mamma non abiazza a papà Che a che i giorni non passi Dobro, mamma è tutto Ma è tutto Ma dove è stato fatto Di farlo? Che però, per l'ultra è fatto che ti sparo Pettia, da cosa è stato fatto Ech, papà, quando ti 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 tornerai? oh, ma qui si trova una chiave si trova una chiave si trova un po' di più c'è un altro po'? c'è un kit di cusci il mio zercalo avete imparato anche specchio specchio in miei brame? si, è scelta, scelta c'è il kit da cucina, è più ovvio che sia qui, ovviamente l'ago, l'italino, bottoni, abbiamo il kit nient'altro, perfetto, quindi adesso possiamo riparare la muffola sì? no? ok? e faccio la faccina ancora e poi questo immagino per qua un bel regalino di compleanno ok? compagno muffola che anche nel logo del gioco, nella copertina del gioco c'è la muffola fatta così effettivamente ok è una sola o solo tutte le due? di sicuro non ho paura di te, compagno muffola qui ci sarai i dischi allora c'è la terza matita di quattro vestiti bianchi anonimi vabbè e anche la russia della seconda guerra mondiale e poi vediamo oh, spero che ci sia no, no, no ah, ecco qua quale? è questo? è questo? è accaduto anche un foglio, eh? non pensare che non me ne sia accorto in terra in terra ma guarda come sono felice guarda e facce felici proprio la felicità che tu possa vivere felicemente 1931 chi è che scriverebbe una cosa del genere? su una foto che tu possa vivere felicemente ma prima ho messo questa se no non... persino madame troppo felicissima per le feste questa musica quando si dice ti concio per le feste si intende proprio questo nuove note allora le leggi dei figli d'ottobre dicono i figli d'ottobre aiuteranno i pionieri i membri del Consomol i comunisti, i lavoratori e i contadini i figli d'ottobre aspirano a diventare giovani pionieri ok mamma e papà sono così giovani felici e spensierati pensa te, guarda che foto chi l'avrebbe mai detto uno dei guanti di papà è diventato proprio un gran bel compagno sento che staremo vicini per molto tempo cavolo spero che madame e arcascia non diventino gelosi arcascia addirittura invece che arcadi qualcosa di nuovo nel diario no ok quindi il mio obiettivo nella vita adesso è sembra che stia per piovere l'ultima cosa ed era non mi ricordo cos'era arriviamo con arcadi va arcascia ah devo concludere un disegno allora devo tornare di là e disegnare via tre matite di quattro mi potranno bastare vabbè no perchè gli manca il quarto pastello non disegna eh dov'è il quarto pastello io non ne so dov'è ho guardato ovunque non c'è più nulla di cliccabile ok è che si muove con una lentezza tale dietro la pianta forse non mi ha fatto spostare prima non mi ha fatto fare niente qua quindi no guardiamo meglio qua nel si possono togliere credi no perché un pastello c'era già quindi credi no qua oltre allo specchio delle mie brame fa altro ma a sì sì ora sì sì l'especi sì l'abbiamo già preso uno direi che no forse qua forse qua quindi dov'è? non so dov'è il quarto pastello come lo chiamo lei sono matite mi sfugge proprio allora l'altra camera al giradischi nascosto del giradischi bella musica niente non è ah ah di qua bastardissima non avevo visto il non avevo visto il cassetto non avevo visto il giro ma questo è solo per uscire io ho solo un caratteristico non avevo visto il giro vai non volevo fare la casa volevo fare il tetto rosso tutto rosso c'è il comunismo tutto rosso quando siamo ancora inizialmente inizialmente case rosse tetti rossi alberi si spera verdi sarebbe un po' triste il contrario babbo è militare non intendevo questo vai c'è lo c'è lo non si volora c'è lo in più vai tutto verde qui vai gas la stradina è blu vai questo è giallo e blu no è il tetto ma io voglio colorare questo va bene ma che meraviglia eh adesso non so cosa sia lo coloro di no questo voglio colorare di celeste sa eh che meraviglia va bene così siamo tutti felici ah ci sono le note nuove non ci sono note nuove non è vero stai mentendo vai rilassiamoci sul divano mentre aspettiamo la mamma questa sirena non è niente di buono ma perché è colpa nostra perché ci facciamo i sensi di colpa ma povera ma buttala fuori a parte tutto dentro la tua festa la guerra questa era giorno 1 pensate voi 23 agosto 1942 nel mondo nel momento direzione del stato stato giusto l'avere gli pizzi il giovane il l'arri il la la il Nel tempo di riuscire, i soldati di Wehrmacht hanno riuscito a Stalingrado circa 60.000 membri di giudizio per lavorare in Germania. Acia e mia mamma sono tornati a casa. Cazzarola! Ed è qui che si interrompe questo video introduttivo su Torn Away, un gioco che è un cazzotto nello stomaco fortissimo. Abbiamo visto solo i primi minuti, quelli che servivano per capire le meccaniche di gioco, ma non quelli per capire dove andremo a finire come storia, quella la dovrete sviluppare voi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per il tempo passato insieme è sempre un piacere. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e cliccate sulla campanella in modo da rimanere aggiornati. Mettete like, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! A presto! C'è! Ciao! Ciao! Ciao!